musica 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 ah non lo so io musica eccoti la king dai dillo dillo ah vabbè basta ortus e non lanciare nade merda il devasto ortus il gioker mi fa un po' tristezza così in tutta sincerità che cosa? decarcerato a me no buongiorno mi scade l'orecone beh beh no è buona per te non è ovvio il fatto che scada l'orecone non è una cosa normale non muori no scopi niente pro bomba oh ma ge ma fa un cuore c'è una feggio dei baffili ma che culo di merda guarda guarda va a prendersi le mie ortus basta con le ortus non fatemene rimpiangere vedi quanto già mi manchino oh che belle le ortus sono fortissimo crepa crepa prima tu ho proprio detto ho tutto il cuore non è sempre festa non sempre trovi up vero è quello ma è un altro discorso che dovrebbero essere una costante della nostra community davvero il bravo campo solo con quelli che registra anche quella ma va bene ma what the fuck joker eh è presente in desert in desert thunder il target a si che devi lanciare la bomba sopra e poi entri ecco sei caduto addosso uno no ho lanciato la bomba mentre non nelle scale me la sono ritrovata in faccia e son morto eh poi si è lanciato addosso vado vado mi 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 non voglio fare jump shot quel giusto per ho Tira il scarico Guarda questo qui che va di dragon Questo tipo è buono Per un Norman in Foxtrot Di Desertan è buono Sono i migliori Fai tutto te Ah fila proprio fatto il kill In realtà a me mi si abbassa solo la kb Basta snapper ollie Perché? Non mi piace Vuoi dire il risco che faccio? No Eh vedi Lo stai facendo? 15 15 Peccato che tanki un po' Guarda di nuovo Guarda di nuovo Me lo ricordavo meno tankoso sto secco Oh c'è un rejected Non te ne ne ricordo? Sì però non Tancato di nuovo Tancato di nuovo Perdo tutti i jump shot Tutti C'è di drago, no? L'ultima lo voglio fare veramente in jump shot Ok, non è partito il colpo Ok, non è partito il colpo